Grazie. Allora, non ci risultano comunicazioni ufficiali richieste dalla circoscrizione di Sardagna. È pervenuta però la polizia locale, con mail istituzionale da parte della presidente della circoscrizione di Sardagna, la richiesta di programmare delle uscite per verificare e provvedere a ristabilire una viabilità consono al transito dell'autovettura in sicurezza. E infatti sono state accertate dal 1 ottobre 2023 al 20 febbraio 2024 le 52 sezioni amministrative. Per cui la richiesta non è della circoscrizione, ma è della presidente della circoscrizione che è un mail istituzionale. Grazie. Ci va Giuliani, prego. Grazie, grazie di questa spiegazione. Naturalmente in questa parte, diciamo che non sono soddisfatta per questa, diciamo, interpretazione, perché veramente qua mettiamo un po' in discussione qual è anche il compito della gestoscrizione, secondo me. più il dialogo non sarebbe più stato più opportuno di fare segnalazioni, ma ancora in attività non si prenderà le propria responsabilità. Grazie. 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 La seconda domanda di attualità è del consigliere Filippini ed ha ad oggetto...